Graham! Dalle coste del Maine verso la costa della California Tombo ha catturato i cuori degli americani ovunque forse è il modo in cui si dondola e si arrampica o sconfigge i maiali malvagi e le piante carnivore o forse è il modo in cui tu e Tomba li sconfiggete tutti insieme Tomba ti vuole bene e accidenti l'America adora Tomba Tomba ti vuole bene